Hola! State per vedere il format del mio diario. Voglio farvi una grande premessa. Tutto quello che voi sentite dalle cose che dico, le cose che faccio, soprattutto in questo format, ci tengo a sottolineare che non sono in qualche modo un insegnamento. È più un invito che indirettamente faccio a me stesso. Perché tutte le cose che dico in realtà le sto ricercando, le sto studiando, le sto facendo un lavoro personale che voglio condividere con voi. Il vero intento di tutta questa roba qui è aprirmi con voi, farmi conoscere meglio, con la speranza che delle cose che dico ne possiate trarre degli spuntiuti. Magari dico tutte cacate. Se c'è qualcosa che non vi risuona, che non vi quadra, eccetera, scrivetemi anche in privato. Sto cercando di capire anche io. Oh! Hola gente! Benvenuti di nuovo nel format del mio diario. Per chi non lo conoscesse, è il format dove in maniera spontanea, senza nulla di preparato, parlo un po' di quelle che sono le mie sensazioni, cerco di fare delle riflessioni, e in qualche modo poi arriviamo da qualche parte. Un po' come un diario, cioè dove cominci a scrivere, non sai che c***o stai scrivendo e poi alla fine tutto ha un senso. Allora, cominciamo con la domanda di Rito. Come sta andando? Molto bene, nel senso che sto un po' alla volta ordinando quelle che sono le idee, i pensieri e come fare le cose. Ormai è più di un mese e mezzo, quasi due, che sono partito, e dall'inizio è cambiato veramente tutto. Anzi, paure, preoccupazioni, pianti, non pianti, crisi, non crisi. Adesso, invece, sono inventato una nuova fase, dove sono molto più tranquillo e quello che sto facendo è ordinare il tutto. Che poi, in realtà, è una cosa anche forzata. Che vuol dire forzata? Anche se nella città prima di questa, comunque, il concetto era lo stesso, cioè non turisti, non occidentali, però c'era mai il ragazzo che mi ha aiutato con i fogli dell'autostop, con il quale ho condiviso un sacco di cose, perché parlava inglese. Qui, invece, siamo proprio in una fase successiva, in un paesino sperduto, nelle praterie thailandesi. E qui non solo non ci sono occidentali, ma nessuno veramente parla inglese. Riprendendo la parola forzata, che vuol dire forzata? Vuol dire che, in qualche modo, sì, posso chiamare i miei amici, posso sentire dei podcast in italiano, posso fare quello e quell'altro, però alla fine, la maggior parte del tempo, sono solo con me stesso, i miei pensieri e tutto quello che voglio fare. E questa cosa, vi devo dire la verità, all'inizio mi ha messo in crisi. Non mi aspettavo che fosse così impattante andare in un posto dove veramente non c'è nessuno, ma nessuno, 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 con il quale riesce a comunicare, se non con i gesti, soprattutto a livello di idee, di cose che posso comunicarvi. Perché sì, è vero che molte, comunque in passato, sono derivate da me e basta, però anche molte altre sono derivate dal fatto di stare insieme alle persone, comunicare con le persone, ragionare, fare e dire, e quella roba ha un valore immenso. Quindi immaginate passare da tutto a niente all'improvviso. E come vi dicevo, in realtà all'inizio c'è stata una crisi e non riuscivo a dormire la notte. Ho scritto pagine e pagine di diario, cioè questo comunque, veramente il mio diario. E arrivando a una conclusione incredibile, ovvero che nonostante la mia vita, come spero voi, nella vostra, abbia raggiunto dei risultati importanti per me fino ad adesso, senza mai in qualche modo fermarmi, nonostante tutte le premesse erano a mio svantaggio, sono riuscito ad arrivare a fare cose che non mi sarei mai sognato di arrivare, a livello lavorativo, ma proprio a livello mondiale. Però questo non è il video. La sostanza di tutto questo è che mi sono reso conto qui, solo qui, in un paesino imperduto della Thailandia, che ho sempre creduto in quello che volevo fare, anche perché se no non avrei raggiunto i miei risultati, ma non ho mai creduto realmente al 100% in me stesso. E come mai dico questa cosa? Perché altrimenti non si spiega il fatto che mi sveglio la mattina e c'ho l'ansia di non sapere cosa fare, non sapere cosa non fare, questo, quello e quell'altro, che all'inizio ci può stare, se voi fate una cosa per la prima volta, ci può stare avere l'ansia, la paura, la preoccupazione. Porca puttana, dopo che ho fatto 120 video sul canale, com'è possibile che ancora adesso mi sveglio la mattina e mi preoccupo di cosa fare, cosa non fare, e se riesco a farla, e dai, e per favore. E questa cosa l'ho tradotta come mancanza di fiducia in me stesso. E poi da lì è giunta una riflessione, che tra l'altro mi sono scritto qui, mi sono fatto proprio una formula matematica. Avere poche idee è uguale a sentirsi bloccati. Poche idee derivano dalla mancanza di ricerca, dalla mancanza di movimento, quindi ritorniamo al concetto di essere bloccati, e in qualche modo alla mancanza di meditazione. Adesso ci arriviamo. Mancanza di ricerca, movimento e mancanza di meditazione non sono uguali a fare sport, passeggiare perdendosi, fare qualcosa che vi defocalizzi totalmente da quello che voi state facendo che vi mette ansia. E questa cosa l'ho presa dal concetto di meditare. Per chi non lo sapesse, ci sono mille tipologie di meditazioni diverse e la cosa incredibile è che si dividono in due grandi filoni. Il filone di quelle che vi portano ad essere più concentrati è quelle che vi portano ad essere deconcentrati. Adesso l'ho detto in soldoni, è un argomento enorme, prendete il concetto. Quindi concentrarsi e deconcentrarsi. E deconcentrarsi è tanto potente come concentrarsi. Perché nel momento in cui siamo in una confusione tale dove non riesci a uscirne fuori, non riesci a capire che cosa fare, cosa non fare, le ansie, le paure, la deconcentrazione, è una delle risorse fondamentali. No, non dico che bisogna meditare, infatti fare una passeggiata, guardarvi un film che non c'entra niente, sono tutte robe che aiutano tantissimo. Meditare, poi ho scritto. Disegnare, perché per me disegnare è una meditazione. Cioè nel senso che quando disegno entro in uno stato di flusso di pensieri allucinante e faccio tutti i disegni così. A voi magari, non so, quando, non so, se fate le ceramiche oppure se fate il puzzle o i giochi società o qualsiasi cosa sia, però qualcosa di pratico che vi aiuta a pensare senza concentrarsi su quello che sta succedendo in qualche modo. Per me è il disegno. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. E la sesta che ho messo è in uno stato di movimento, se sono curioso, chiedere e interagire. Che cosa vuol dire? Un po' come i video che avete visto e che vedrete sul canale dove non so cosa succederà, vado, cammino, vedo delle persone che fanno cose e incuriosito invece di andarmene, nonostante comunque sappiate che anche personalmente c'ho dei dubbi, cioè non è che vedo una cosa di wow che figata adesso la vado a fare, ho dei tentennamenti, però fatto sta che poi a un certo punto è un click, che vado e interagisco con le persone. E questa cosa, per quanto possa sembrare banale, è di una potenza immensa. Quante volte magari volevate parlare con una persona, vi siete fatti mille problemi e poi quando ci avete parlato è cambiato tutto. Eppure all'inizio non volevate farlo, come da un punto di vista lavorativo, da un punto di vista di amicizia, da un punto di vista delle relazioni, e tutto parte da una curiosità. Tutta questa roba l'ho tradotta con il concetto di agire verso, ricapitolando. Una sensazione di blocco, di impotenza, che in qualche modo porta ad avere poche idee di qualsiasi tipo, a livello lavorativo, a livello personale, a livello familiare, a livello di amicizia, a livello di tutto, che ho tradotto come mancanza di ricerca, di movimento, e mancanza di meditazione, che sono diverse da fare sport, passeggiare perdendosi, dei focalizzare il focus, meditazione, attività che in qualche modo vi porta a un altro stato di pensieri, per me il disegno, se non ne avete una, vi invito a cercarla. E il momento in cui sei incuriositi di qualcosa, agire verso quella cosa, agire verso quella persona, agire verso quel luogo, agire verso, agire verso. Fare, andare verso, è la frase che può racchiudere tutto questo, e per me è diventata una vera e propria fede in questi giorni. Ma prima di arrivare a specificarvi il concetto di questa frase che ho appena detto, tutto ciò è amalgamato da una chiave di lettura che ho interpretato in questo modo. L'ingrediente segreto è la fede nell'azione. La fede che agendo le cose arrivano. Basta agire e non avere paura di andarci verso. Perché la verità è che noi viviamo nell'ignoto. Cioè, noi realmente non sappiamo cosa succede domani. Possiamo avvicinarci a capirlo, ma in realtà che cazzo ne sappiamo? Quello a cui sono arrivato è che se non si ha una fede profonda nel credere che agendo le cose accadono e accadono perché noi le facciamo accadere, essendo curiosi, facendo questo, facendo quello, quell'altro, almeno per me non ha senso vivere in qualche modo. Perché se non ho fede in questa roba qui, con quale presupposto posso alzarmi la mattina andare nell'ignoto e fare cose? Se non ho la fede e la speranza che agendo le cose accadono. Ora, mi rendo conto che oggi questo video sembrava una sorta di video un po' da santone, un po'... Però in qualche modo questa cosa mi sta aiutando ad andare tanto avanti e per me veramente è una chiave di svolta. che non vuol dire che debba essere per forza una cosa che vi può interessare. Però allo stesso tempo c'è, ci deve essere qualcosa in cui credere. Perché se no come cazzo fate ad andare avanti? Vi voglio fare un esempio un po' più pratico. quando avevo cominciato a studiare Ingegneria Meccanica che erano mai finito una delle prime lezioni di analisi il professore ci guardò e ci disse voi dovete affidere fede che tutto quello che state facendo adesso da qui a qualche mese da qui a un anno o da qui a decenni avrà un senso perché altrimenti se voi non avete fede nel fatto che quello che state facendo vi porterà dei risultati concreti avete smesso ancora prima di cominciare perché oggettivamente è folle fare una cosa sul quale non vedete mai i risultati mai per giorni per settimane per mesi magari per anni e continuare a fare quella cosa lì senza avere un credo forte e di base cioè è la cosa figa sapete qual è che qualsiasi cosa voi vogliate fare nella vita in qualche modo c'è già qualcuno che l'ha fatto c'è già qualcuno che ha fatto da apripista volete scalare l'Everest hanno fatto migliaia di persone sapete già quali sono gli errori che hanno fatto gli altri volete arrivare sulla luna ci sono arrivate altre persone sapete qual è il percorso dove andare quello che potete fare quindi la cosa figa è che in realtà i manuali di istruzioni ci sono per me le vere persone folli sono le persone che in qualche modo rompono le barriere senza avere il manuale di istruzioni pensate a Thomas Edison senza di lui non avreste la luce quindi qualsiasi cosa di luminoso voi usiate durante la vostra giornata senza questo signore voi non l'avreste mai avuta ok come me vi rendete conto che quel pazzo fottuto per anni per anni ha fatto più di 3000 errori prima di arrivare alla lampadina ma quanta fede devi avere in te stesso e nella cosa in cui stai facendo per arrivare a un livello tale di perseveranza per me sconfinato ed è proprio qui che in qualche modo si capisce il valore e il potere dell'essere umano quando si spinge verso e agisce verso qualcosa il mio invito di oggi in qualche modo è se non l'avete di trovare quel qualcosa che in qualche modo non vi faccia mai smettere di fare le cose perché sapete che anche se adesso non ci sono dei risultati concreti poi arriveranno e non dovete per forza fare la lampadina magari il vostro sogno è disegnare non sapete disegnare magari il vostro sogno è fare le ceramiche non sapete fare le ceramiche magari il vostro sogno è fare i coltivatori non sapete coltivare però dal mio punto di vista sono convinto che agendo verso nell'ignoto se si crea un contatto le cose accadono il mio invito di oggi è se vi sentite bloccati agite verso e cercate di far accadere le cose adesso non sapete le cose accadere le cose le cose accadere le cose non sapete le cose accadere le cose